Il corvo di Edgar Allan Poe The Raven, il corvo, è il titolo di una poesia di Edgar Allan Poe, frutto di un'attenta analisi in cui nulla è affidato al caso o all'intuizione. Dalla lunghezza del componimento, un centinaio di versi, ha l'obiettivo la decantazione della bellezza, intesa come elevazione dell'anima. La bellezza, in tutte le sue manifestazioni, suscita nelle anime più sensibili il pianto. E per questo si esplica mediante l'uso di toni malinconici e con un particolare spediente artistico che cattura l'attenzione del lettore. Il refrain. Un ritornello che nel corvo non segue le regole tradizionali di identità di pensiero e suono della poesia lirica. Piuttosto si individua una sonorità in grado di creare effetti diversi in relazione al testo che la precede. Proprio per permetterne un utilizzo flessibile viene scelto un refrain breve, collocato alla fine di ogni strofa. Una singola parola che per Po doveva possedere delle caratteristiche ben precise, una sonorità tale da creare un'intensità prolungata. E per questo venne pensato un termine che contenesse una O lunga, la più sonora delle vocali, e la R la più prolungabile delle consonanti. È un accordo perfetto col tono malinconico deciso dall'autore per la sua poesia. Da qui la scelta di Nevermore, in italiano mai più. Chi è destinato a pronunciare questa parola senza speranza? Po opta per un animale. All'inizio un papagallo, poi un corvo. Qual è l'argomento più triste di cui si possa parlare? La morte. Quando a morire una bella donna e volendo appunto decantare la bellezza, in che modo essa si può accompagnare alla morte? Quando appunto a morire una bella donna. E quali labbra sono più adatte a esprimere il dolore provocato dalla perdita? Quelle dell'uomo privato della donna. Gli elementi sono pronti per essere uniti. Da una parte l'amante, il narratore che piange l'amata morta. Dall'altra il corvo, che continua a ripetere il refrain Nevermore, mai più. Le due entità devono entrare in contatto e nel medesimo tempo, non bisogna dimenticare, la variazione di applicazione del ritornello. Da questi presupposti, Po concepisce la struttura base del componimento. Con l'amante che pone diverse domande, il corvo che risponde sempre Nevermore. Si parte con interrogativi banali per arrivare a quesiti sempre più profondi. Con l'angoscia del protagonista, che cresce di domande in domanda, il narratore è condizionato dalla continua ripetizione del termine, dalla malinconia insita nella parola, dal fatto che a pronunciarla è l'uccello del malaugurio. L'uomo cade così preda della superstizione. Comincia a fare domande sempre più importanti, le cui risposte sono per lui fondamentali, col corvo che risponderà sempre e comunque allo stesso modo. Ma l'amante sa che l'uccello sta ripetendo meccanicamente qualcosa che gli è stato probabilmente insegnato. Tuttavia continua a porre quesiti, poiché prova un folle piacere nel formare le sue domande, in modo da avere, dall'atteso Nevermore, quel dolore che è il più prezioso e delizioso, perché è il più intollerabile. Il dolore viene così concepito da poco come il massimo dei piaceri, in quanto l'uomo è dominato dal desiderio perverso di infliggersi torture, in questo caso psicologiche. L'angoscia resa più acuta dalla risposta del corvo è già da tempo nell'animo del narratore, che in un lento processo masochista si consuma e si distrugge, e il mio cuore da quell'ombra non risorge più da allora, diviso tra il desiderio di ricordare e dimenticare. Non è crudele il corvo che ripete Nevermore, mai più, è l'uomo che diventa contemporaneamente carnefice e vittima di se stesso. Nel suo continuo e impellente bisogno di interrogare l'uccello fino alla discesi irreversibile nella pazzia. Il corvo rappresenta il manifesto della poetica di Paula, sintesi dell'orrora, del mistero, della tensione che culmina nella follia. Nei precedenti racconti Il gatto nero e Il cuore rivelatore, i narratori dovevano fare i conti col senso di colpa per aver ucciso qualcuno. Nel corvo si menziona solo il fatto che Leonora è morta, non si sa come, si può solo supporre che il narratore sia stato il suo assassino. Certo è che il ricordo della donna lo perseguita e lo spaventa. Il senso di colpa approvato dai personaggi di Po non è mai di natura morale. Nessuno di loro si sente colpevole per aver commesso un'azione malvagia. E lo scrittore non ha mai, come fine ultimo nella sua opera, l'insegnamento, dal momento che considera la didattica la peggiore delle eresie. Per Po il senso di colpa corrisponde al perverso desiderio di autodistruzione, di cui anche il protagonista del corvo è vittima. Un processo sinistro, inspiegabile e definitivo che si tinge di quei toni macabri che accompagnarono in seguito il simbolismo e il decadentismo.